Buonasera amici appassionati del futsal questa sera ci troviamo al campo centrale di Borgo Carzo per la finale dell'over 35 tra la formazione dei rubusciati che affronterà il Nilo di dirige il confronto il signor Roberto Paoletti della sezione Oves della Tina già al centro del campo e c'è il fischio d'inizio rubusciati a gestire questo primo pallone con il retropassaggio all'indietro Oscar ma il gioco deve riprendere dopo il fischio di Paoletti che arriva proprio in questi istanti 30 firi in mezzo c'è la deviazione proprio di Oscar si sblocca il match il Nilo passa in vantaggio 1 a 0 ha dato il vantaggio a il nero Oscar adesso la possibilità con Ferenci che mette in rete 2 a 0 ora ancora è il rubusciati Mimmo è la possibilità con il fatto l'errore da parte di Prospero mette ancora il Nilo di andare a depositare il pallone in rete e questa volta per la terza la quanta Ferenci riesce un po' a districarsi va via a un altro giocatore con 30 firra esce il portiere e poi la possibilità con l'attacco da parte di Filice e poi il tiro è il palo di Oscar ma la tiro la traversa 2 lenti 1 per parte in pochi secondi Filice pacifici grosso errore da parte di Filice e poi 30 firra per la quarta volta trafigge di Prospero oscar rubusciati ban in prova oscar tentativo di Mohamed di rispingere il pallone timidamente arriva la prima marcatura di rubusciati con oscar per osservarlo fuori 30 firra se ne va sulla destra prova degli stefani metten out sicuramente proverà a calciare vede c'è il fischio la distanza e vede lo spiraglio giusto per depositare il pallone in rete secondo col ora con dei vishan palla e mezzo per ban in che a corcia 4 a 3 a corcia ancora prova la fiondata ribattuta dalla difesa ancora 30 firra oscar ancora 30 firra fortunatamente riesce a recuperare il pallone poi la fiondata che fa la barba al palo soprattutto di inquadrare il palleggio oscar si accentra poi pacifici la mette in fondo al sacco di parità referenzi attende l'inserimento di joan palla stoppata riparte oscar poi con felice il gol del vantaggio ferenci il tiro di vishan arriva pari da 5 5 ferenci ancora 30 firra con mimmo e poi il gol di mimmo riporta in avanti il nilo mission e in mezzo felice poi il tiro di pacifici parità ora 6 a 6 dai 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 ragazzi dai ban in scambia con oscar mezzo poi il tiro debole va via 30 firra con ferenci che la mette in fondo al sacco su questa conclusione la ripresa con ferenci il tiro di vishan che va a chiudere questa contesa con la formazione il nilo che si aggiudica e poi il tiro di vishan che va a chiudere questa contesa con la formazione il nilo che si aggiudica il secondo la seconda edizione del trofeo over 35 realizzato grazie paolo grazie paolo paolo grazie 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 paolo